Si chiude con un pari la sfida del Giovanni Paolo II fra Nardò e Nocerina. Una doppietta di balde regala a Emolossi un punto prezioso. Un risultato utile a muovere la classifica e a mettersi finalmente alle spalle le polemiche dopo la sconfitta interna contro il Matera. Zavettieri, costretto a rinunciare a Kalel, Magri e Cuomo, schiere i suoi con un'inedita difesa a tre. A centrocampo confermato titolare Ambro, in avanti Talamo, è il punto di riferimento con Minciche e Baldi ha supporto. Più lineare il 3-5-2 dei padroni di casa, prima linea affidata la coppia formata da D'Ambrousse e Jonay. Prima fase di gara di studio, con poche emozioni ed uno sterile predominio dei padroni di casa sul piano del possesso. I Granata, pur stazionando a lungo nella metà campo rossonera, faticano a creare palle gol, scontrandosi contro l'attenta retroguardia allestita da Zavettieri. Più concreta la Nocerina, che alla prima vera sortita, passa addirittura in vantaggio. Assisti Basanisi per la corsa di Balde, bravo a liberarsi di due avversari e a depositare la sfera alle spalle di Viola. Il Nardot pare frastornato, ma si riversa in avanti e nel finale di tempo riesce a trovare il guizzo giusto per il pareggio. Jonay appoggia la sfera per la corrente D'Ambrousse, che con una girata in bello stile, beffa Stagos. In avvio di ripresa, nuova doccia fredda per i Molossi. Bastano tre minuti a Nardot per passare. Angolo di Guadalupi, colpo di testa di De Giorgi e sfera che finisce nuovamente alle spalle dell'estremo difensore rosso-nero. Ma la Nocerina ha il merito di non disunirsi. I Molossi reagiscono immediatamente e trovano il pari con Balde. Bravo a sfruttare al meglio una respinta corta di Viola su botta di Chietti. Grazie. L'undici di casa accusa il colpo e i Molossi sfiorano addirittura il nuovo vantaggio, con Ambro che impegna Viola. Dal lato opposto, l'occasione giusta capita sui piedi di Jonay, che però non serve il libero Mariano e calcia malamente al lato. Poi ancora Jonay a sparare a rete da buona posizione. Stagos questa volta si oppone bene e respinge la minaccia. È l'ultima vera emozione del match. Il Nardò non riesce più a pungere, ma Nocerina tiene bene e porta a casa il pari.